bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video io sono Agno e oggi siamo qui di nuovo con Panso che è davanti a me sul giro e adesso siamo diretti dal Mon Ginevro, Monceni, porco, siamo diretti al Monviso quindi ci rivediamo quando inizia la roba seria la vaffanculo di c***o spettacolo, in mezzo alle montagne siamo, figata c***o iscriviti al Moncini, Ma che cazzo è veramente? Ma che cazzo è? Ma che cazzo ne so? Da qua uno vola dritto giù Va bene va, spettacolo Ha che cazzo Ok ci spostiamo perché qua il panorama per carità è bello però è meglio sotto Vabbè ma frate non è che ogni curva si può fermare Mannaggia il cazzo Mannaggia è arrivato fin qua su questo Madonna che schifo Comunque è tutto molto bello Comunque è figata qua Megapower 46 vale forever Ok siamo ripartiti Minchia Speriamo non sia morta la farfalla Mendesì E come fai a vedere un'erba del genere? E come fai a vedere un'erba del genere? Speriamo più Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quanto ti ha fatto prendere male il cane? Minchia l'hai visto? Ahahahah. Un po' di ghiaia. Grazie a tutti